con il sindaco di Palermo Luca Orlando un gemellaggio simbolico del segno della sequestra stradale il passato anno progetto On The Road con Rieti Centro d'Italia la saluta il sindaco di Rieti Simone Petrangeli e per l'occasione il gagliarvetto della città Sabina simbolico scambio nel segno di valori importanti e fra le altre cose che poi le farò avere in comune il cammino di Francesco nel giorno di Santa Rosalia questo bel gemellaggio San Francesco la Valle Santa Francescana non so se lei la conosce io voglio ringraziare il sindaco di Rieti voglio ringraziare la comunità di Rieti per questo segno di amicizia di attenzione di solidarietà intorno a valori di rispetto della vita e ricordare che oggi celebriamo Santa Rosalia e anche noi abbiamo il nostro cammino di Santa Rosalia itinerario Rosalie che collega il Monte Pellegrino a Palermo il santuario di Monte Pellegrino al santuario di Santo Stefano di Quisquina nell'interno della Sicilia e la festa di Santa Rosalia questa grande festa con 350 mila persone che ieri hanno partecipato al corteo guidato dall'amministrazione comunale ma con la presenza e partecipazione di Don Corrado nuovo arcivescovo di Palermo è un momento nel quale ci mettiamo allo specchio Palermo è e vuole essere città dell'accoglienza per questo noi siamo un mosaico fatto di tessere di colore di forma diversa e di fronte a chi parla del pericolo dei migranti rispondiamo che la vera sicurezza è accogliere accogliere ricordando e concludo che le radici del cielo sono sulla terra le radici della della terra sono nel cielo fra sacro e profano ieri sera il festino e oggi questa processione meravigliosa nelle strade di questa città fantastica una straordinaria armonia rispetto alle diversità religiose etniche e culturali l'aspettiamo a Rieti centro d'Italia arrivederci a Rieti